Ciao, sono Tatiana Gerbin, sono qui all'Arbor Club di Milano a vedere il torneo ATP Challenger City Life. Sono qui a vedere e a fare il tifo ai miei amici italiani, perché oggi so che gioca a naso, quindi sono venuta a fare un po' di tifo per lui. Mi chiedono in tanti quando ho pensato che Francesco potesse arrivare fino in fondo. Io dico una cosa, perché c'è una gabuletta tra di noi, perché quando ho giocato il torneo di Barcellona, tutta la settimana l'ho scaldata io, quindi al secondo turno del Roland Garros, io gli ho detto, guarda ricordati che l'ultima volta che ti ho scaldato hai vinto il torneo. E così è stato anche per Roland Garros. Però in quel momento era proprio al debutto del torneo, quindi appena al secondo turno, e ci siamo un po' messi a ridere. Però alla fine lei ci credeva veramente ed è stata fenomenale, è stata una partita fantastica quella che ho visto anche per la finale, è stata veramente bella.